ah amici auguri auguri un paio di coglioni perché gli auguri li dovete fare a me perché nei prossimi scherzi telefonici che andrò a fare con un nuovissimo personaggio durante la notte di capodanno paolo noi mi ha mandato le voci di un vecchio che viene preso per il culo dal suo nipote sentite ah incredibile fantastico lui sarà da oggi poi siamo pronti andiamo power dynamite che stupido pronto tu hai giusto sai tu che sbagli Simone chi cerca lei chi cerca lei Simone vieni domani mattina da me chi è che deve venire orca m***a cominciamo con te lo faccio apposta ma possibile che sia così imbecille ma che posso stappar posta io abbiate qualcuno a te su queste cose qui ma te la vuoi sbettere che io non so ma lei ha sbagliato il numero scusi eh eh non è che hai sbagliato il numero pregati bene lì la batto eh qui è Nemmo il bar di M***o ma io eh e allora vaffanculo vaffanculo ma perché questa vecchia non è che mi ha soddisfatto molto eh sapete perché perché non ho usato la mia rubrica personale no allora fatemela aprire un attimo che qua mi sto già ingazzando che non viene un cazzo aspetta eh ah eccolo qui l'ho trovato chiamo il nonno orco con il perpetuo man chi è eh sei pronto eh pronto 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 orca m***a cominciamo a poterlo farci apposta ma non significa che si così imbecile eh piegami bene non lo vieni domani mattina da me pronto testa di cazzo hai finito di romperi i coglioni eh rimbambito di seghe ma vai a prendere ora il c***o cretino che non sei altro vedi rompa di coglione la gente che lavora vai a cagare cretino di un ignorante di merda pezzo di cacca putrida vai a cagare vaffanculo tu e tutta la tua famiglia coglione di merda e non chiamare più pia di cazzo vaffanculo rimbambito di seghe fantastico nonno orco di lagna ma io non resisto voglio vincere facile chiamo subito il signor cappella anche perché sarà fuori in allenamento è importante tenere in forma sti vecchi maledetti ma no chiama cappella chiama cappella chiama cappella chiama cappella chiama cappella oh pronto pronto chi è pronto ma che vuoi la che vuoi che vuoi la che oh avatta un culo vai plegati bene lì la batto è cominciato pronto la che ma che cazzo vuoi figli di pustana si vuole vieni domani mattina da me rimorcanci tua credito ma te la vuoi investire che io non so aspettare sento che non capisco niente di quello che stai dicendo tu ma ancora ma che vuoi andate da fare il numero capone di merda a te quella porca di tua madre ma che cazzo ne so io vaffanculo bambina ma che ne so signore non capisco niente sento di merda porca d***a signore maria le mie cazzo e vai l'abbiamo rimesso in forma signor cappella però bisogna rimettere subitissimamente in forma il profeta veneto andiamo dai Bruno si alleluia 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 ecco come sta tua attenzione allora pronto 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 parli mio la che non ricominciamo queste cose ma perché non si incazza è come una figa ma che ne so ma no stai zitto tu aspetta fammi richiamare interagisce di sbagliare ooooh poco e sbagliore non ricominciamo queste cose sa pavomi coi can tradito sai tu che sbagli simone nome coi ome coi can simone vieni domani mattina da me ma se la vuoi mettere che io non so sospettare essendo che non capisco niente di quello io mattina ne va avanti se te volete ho fissuto porca ma di figli bastarda ma coi la che dai dove va dai dai porca ma coi spiegati bene dai coi can dai porca ma si può ma io le figli dai tranquillo la giornata coi can la che c***o 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 quanto mi dai amare gli animali questo uomo è il bambino fantastico fantastico